E' arrivata nel porto di Catania la nave 18 della Guardia Costiera con a bordo i 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso a largo della Libia. 13 sono donne incinte. Sull'imbarcazione ci sono anche due cadaveri. Sul molo i migranti hanno trovato personale pronto ad assisterli e investigatori della squadra mobile delegati dalla procura distrettuale di Catania per l'individuazione degli scafisti. Ma in generale aria di festa con gli operatori di Save the Children destinati ai 220 minori appena arrivati. E mentre a Catania gli immigrati sbarcano e tirano un sospiro di sollievo, la Aquarius continua a navigare verso la Spagna. Il fronte dei favorevoli e dei contrari ai porti chiusi si allarga, le polemiche non si placano e l'incidente diplomatico è ad un soffio. Non sono andate proprio giù in particolare le dichiarazioni rivolte al governo italiano da quello francese. Quell'aggettivo vomitevole nei confronti di una nazione che da anni è sola a gestire l'emergenza e a seppellire i morti, detto da chi usa le armi spianate contro i migranti ammassati sugli scogli al confine di Ventimiglia, decisamente non è accettabile. Il ministro milanesi ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese Massé e Salvini rincara la dose. I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di 10.000 persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini, e aggiunge, ricordo poi che sul fronte Nord Africa paghiamo tutti l'instabilità portata proprio dai francesi in Libia. L'Italia oggi è tornata centrale e ha risvegliato l'Europa. Spero che tutti i paesi diano il loro contributo per l'obiettivo comune, la difesa delle frontiere esterne, la difesa del Mediterraneo.